Tutta Italia, provincia eblea inclusa, guarda purtroppo con poco ottimismo verso la cosiddetta fase 2, quando si dovrà iniziare a ricostruire dalle macerie del Covid-19. Per questo, giornalmente, si susseguono le prese di posizione da parte di associazioni e istituzioni locali, incontri su incontri per fare il punto della situazione, stilare una scaletta di interventi e priorità. Nelle ultime ore la Confcommercio di Ragusa ha messo in evidenza tutte le criticità con cui, al momento della riapertura, che sembra ormai prossima, occorrerà fare i conti. Le attività commerciali, sottolinea il presidente della Confcommercio di Ragusa, Danilo Tommasi, prima di ogni altra cosa si chiedono come faranno a ripartire, con quale sostegno, con quale garanzia. La ripartenza non sarà facilitata dalle restrizioni sanitarie, che tutti sono obbligati a rispettare, sia per chi offre servizi che per chi ne usufruisce. Confcommercio Ragusa ha chiesto all'amministrazione comunale lo sgravio totale per tutto il 2020 dei tributi, ma le attività commerciali dovranno inoltre andare incontro ad altre spese, come contributi dei propri dipendenti, assegni fornitori che sono ancora rimasti insoluti, acquisto di materie prime, mutui non sospesi, spese di sanificazione e investimento per l'acquisto di nuovi sistemi di sicurezza, canone d'affitto insoluto dei mesi passati, utenze, luce e gas da dover saldare alla riapertura. È fondamentale inoltre che le attività commerciali non solo abbiano la possibilità di effettuare un tampone preventivo a tutti i propri dipendenti, ma che abbiano una corsia preferenziale per ricevere risultati, in modo da dover sacrificare al massimo 24 ore di lavoro in attesa dei risultati. Inoltre resta da capire su chi ricade la responsabilità nel caso in cui la clientela non osserva le misure di sicurezza imposte dalla legge. Il sindaco Cassì ha informato Confcommercio che l'amministrazione comunale di Ragusa sta mettendo a disposizione un fondo economico pari a 200.000 euro, di cui i beneficiari potranno essere le attività commerciali. Non si fanno i salti di gioia al pensiero di dover riaprire, conclude il presidente Tommasi, fin quando non ci saranno sostegni economicamente concreti e massime garanzie per tutti coloro che prestano servizi e che li ricevono. Inoltre, visto che nessun decreto nazionale riesce a soddisfare le esigenze delle attività commerciali, si continua a chiedere il pieno sostegno da parte delle amministrazioni comunali e delle varie istituzioni. E proprio sulla prossima ripresa economica è anche intervenuto il deputato nazionale Nino Minardo, pronto a presentare un ordine del giorno al decreto Cura Italia per chiedere interventi concreti a sostegno non solo di bar, ristoranti, hotel, agriturismo, ma anche di imprese che svolgono attività legate quasi esclusivamente a questi settori e che stanno attraversando un momento di grave crisi per il lockdown. È fondamentale per questo comparto che in Sicilia, come nel resto d'Italia, ha un enorme giro d'affari ed un'occupazione di migliaia di addetti. L'impegno concreto del governo ha il fine di individuare nell'immediato, continua Minardo, misure volte a conservare l'occupazione, sostenere la liquidità e dare sollievo finanziario anche a queste imprese per scongiurare, tra l'altro, l'ingresso sul mercato interno dei grandi big stranieri della distribuzione fuori casa. Dietro alle saracinesche abbassate di bar, ristoranti, pub, alberghi, ci sono un'infinità di altre imprese e lavoratori che stanno attraversando una crisi devastante. Grazie a tutti.